Amici questa insalata vi consiglio assolutamente a tutti, andate a provare domani perché cipolle di tropea si fanno tutti i modi, ma questo modo più intelligente perché è crudo, mangiate cipolle di tropea cruda, vitamina C amici, vitamina C deve essere perché potete fare al forno, ci sono tante ricette al forno, appannati all'acqua, mille modi si può cucinare ma questo modo più, soprattutto più proteine perché fagioli 23% di proteine, un legume molto proteico, tonno è tutto proteine e più di così non si può, amici, più di così non si può. E' buono perché è fresco, fresco sta nel frigorifero, potete provare a fare ieri, per domani, tornate a casa, grande caldo, grande caldo, volete sempre qualcosa freddo, freddo da frigorifero come me, io sempre in frigorifero, tutta estate mangio roba fredda da frigorifero, pazzesco. Questa è la nostra ricetta che si cucina da noi, in Toscano si cucina, si prepara in questo modo così, una ricetta molto antica, molto povera in una volta. Questa prossima volta, ora, metà di questi, meno di metà di questi fagioli io voglio fare zuppa perché io faccio sempre così, ma la prossima volta, 400 grammi di fagioli secchi è tutto, tutto bisogna fare, questa, questa ricetta molto buona che bisogna fare con tanti fagioli. Io sono in casa sola, amici, sola, sola, Brindisi, ultimo vino di, di quello vino sfuso, ultimo, buonissimo, provare per credere, amici, questo qua, proprio, vi consiglio. Vino buono, proprio buono questo qua, non sempre buono, vino sfuso, ma questo proprio buono. Un abbraccio a tutti, grazie, grazie e pace e serenità nel cuore a tutti noi. A presto.